Dolori, febbre e addirittura la morte. Non in tutti i casi sono stati eseguiti gli accertamenti necessari per verificare se i problemi di salute posti in oculazione possano essere considerati effetti collaterali legati al vaccino anti-covid. Fatto sta che stanno aumentando le testimonianze di chi ha accusato in prima persona alcuni sintomi oppure conosce chi li ha avuti. In questa azienda pesaresa alcuni dipendenti ci hanno raccontato anche cosa ne pensano della vaccinazione e del Green Pass che tra circa due settimane sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro. E' effetti devastanti perché abbiamo perso un collega che conoscevo da anni con cui collaboravamo, superata da poco la cinquantina, dopo due giorni dalla seconda dose ci ha lasciati per cardiopatia congenita. Risulta quanto meno strano che uno che ha superato i 50 non abbia mai fatto in vita sua un elettrocardiogramma, una visita cardiologica. Sarà una coincidenza, però questo collega l'abbiamo perso. A Massimo Cacciatori, questo il nome del collega deceduto, durante il richiamo era stato somministrato un vaccino diverso rispetto a quello ricevuto all'appuntamento per la prima dose. Originario dell'Abruzzo, dove lavorava, era controllato costantemente, ha proseguito Nicola, perché per il tipo di mansione che svolgiamo siamo sottoposti a check-up rigorosi e lui, come noi, era sano come un pesce. Ora proseguiranno degli accertamenti per verificare un legame con il vaccino? Che io sappia no, perché la causa è stata stabilita con questa cardiopatia congenita e quindi ci abbiamo rimesso un collega per caso due giorni dopo la seconda dose e questo è tutto ciò che ci è dato sapere. Nicola, al contrario, non si è vaccinato. Io che ho fatto il tampone ieri sono sicuro di essere negativo. L'equazione vaccinati uguale immunizzati, ormai credo sia scontato che è un'equazione che è sbagliata, perché i vaccinati sono contagiabili e contagiosi. A condividere questo pensiero è Alessandro Capuano, 56 anni, originario del milanese, che ha scelto di non vaccinarsi. Anche lei conosce qualcuno che ha avuto problemi dopo il vaccino? Certamente, io conosco due mie amiche che hanno avuto delle reazioni avverse, in particolare si sono svegliate a distanza di qualche ora, avevano una sensazione di caldo e rimanevano praticamente bloccate. Praticamente si sono sentite come bloccate, per cui sono andate in processo di soccorso. La cosa si è risolta, diciamo fortunatamente si è risolta, però essendo queste persone perfettamente sane, le conosco molto bene, diciamo che la correlazione con questo ci deve essere assolutamente. Cristian Le invece si è vaccinato, ha avuto dei problemi dopo la somministrazione oppure no? Sono stato molto male per circa tre giorni, ho avuto febbre, diarea, vomito, mal di testa, giramenti di testa specialmente, è anche un forte bruciore nella mano che ancora sta continuando, però non in maniera grave. Che vaccino gli è stato somministrato? Gli è stato somministrato il Pfizer. E poi ha fatto anche la seconda dose? Poi ha fatto anche la seconda dose, infatti alla seconda dose diciamo sono stato molto male. Ad aver avuto problemi di salute dopo l'iniezione anche la sorella di Emiliano Dulizia, lei 44 anni, in piena salute, ci racconta Emiliano, ha ricevuto il famoso mix di vaccini, ha accusato vampate di calore, vomito, tremore e non riusciva a stare in piedi, ha precisato il 47enne. Oggi, a distanza di quasi tre mesi dalla somministrazione, soffre ancora di questi disturbi ed è invalidante, ha commentato Emiliano, che ha aggiunto. I medici però non ritengono che ci sia una correlazione con il vaccino. Poi il dipendente ci ha detto la sua sulle nuove norme imposte dal governo. Va a lenire la Costituzione italiana che è basata sul lavoro, sul diritto del lavoro. E quindi dopo che una persona paga le tasse e tutte si trova a dover affrontare una spesa che non è indifferente per venire a lavorare, altrimenti deve sottostare a un trattamento di cui non è sicuro, di cui non vuole essere trattato, mi sembra una cosa molto ingiusta. Discriminare chiamando le persone, non persone, ma vaccinati e non vaccinati. Come usare la distinzione fra due persone solamente per il colore della pelle, mi sembra una cosa molto ingiusta. Grazie a tutti.